Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata dei programmi gratuiti da usare è ancora un titolo provvisorio della playlist che ho appena creato dove ogni sabato vado ad aggiungere un video dove parlo di alcuni tool interessanti che ci possano aiutare a noi che sviluppiamo videogiochi vi consiglio quindi di andare a vedere quella playlist per cui le persone sono persi un po' di tool in particolare in questa settimana ho portato il mio tool per dividersi il lavoro in piccole task un tool gratuito per generare sprite animati un generatore di effetti sonori per i nostri videogiochi e così via oggi invece vi porto un video in particolare di uno dei tool più interessanti che ho trovato per questa rubrica sto parlando di Pixelator che è praticamente un programma completamente gratuito anche se ci sono delle licenze a pagamento adesso vediamo che ci permette di convertire qualsiasi immagine come possiamo leggere qui in pixel art la cosa fantastica che si può vedere già nella pagina principale di questo tool sono gli esempi dove in pochissimi secondi è possibile convertire una semplice immagine in pixel art quello che consiglia comunque lo sviluppatore di questo tool è di utilizzare questo strumento non solo magari per foto ma secondo me possiamo ottenere migliori risultati invece se importiamo degli oggetti o dei personaggi in png quindi con sfondo trasparente la prima cosa che dobbiamo fare è semplicemente andare a scaricarlo quindi ci basta semplicemente cliccare qui in alta sinistra su download ed ecco qui che possiamo scaricare una versione per windows, linux e mac scarichiamo quindi subito la versione per windows una volta scaricato il zip ci basta poi estrarre il contenuto ed ecco qui come si presenta la cartella di pixelator ci basta poi semplicemente scendere in fondo e troviamo l'applicazione pixelator non confondetevi con il pixelator cmd ma con quello in basso una volta cliccato ecco qui che si apre il programma e possiamo iniziarlo ad utilizzare una volta aperto il programma ecco come si presenterà io ho già preparato delle immagini questi sono gli assets che ho comprato per il gioco dei world of bob e iniziamo subito quindi a vedere il potenziale di pixelator ci basta trascinare la nostra immagine, il nostro sprite all'interno del programma ed ecco qui che ci sarà soltanto pochissimi secondi per convertire la nostra immagine in pixelart inoltre la cosa strafica che possiamo fare con questo programma è anche cambiare la palette colori direttamente da un'immagine quindi ci basta semplicemente andare su google salvare una di queste palette colori ovviamente sconsiglio di prendere una palette con 5 colori se volete appunto creare un'immagine con più sfumature vi basta semplicemente poi importare la vostra palette inserire il png o il jpeg a seconda appunto del formato che preferite pixelator convertirà l'immagine con la palette colori che voi avete importato in questo caso pixelator si adatta invece ai colori originali dell'immagine che noi abbiamo inserito possiamo andare anche a modificare una serie di parametri ad esempio colori in palette che adesso abbiamo 8 colori se ad esempio noi inseriamo 32 come potete vedere l'immagine avrà molto più sfumature se io vado ad inserire 64 e aspettiamo appunto che carica qui sta ancora caricando ecco qui che avrà ancora più sfumature se vado ad inserire ad esempio proviamo 4 ecco quale sarà il risultato finale questa cosa è veramente stra figa perché comunque in pochissimi secondi possiamo convertire un'immagine illustrata questo comunque è un vettoriale poi convertito in png in un'immagine in pixel art fatta veramente bene in questo caso io voglio 32 colori e vediamo appunto il risultato possiamo anche modificare il pixelate fattore come possiamo leggere in alto e quanto noi vogliamo che l'immagine sia pixelata se io ad esempio vado a 19 proviamo possiamo vedere appunto che i pixel sono molto più grandi in questo caso io voglio mettere anche 8 mi va bene 8 che se non erro era il valore iniziale o possiamo anche mettere 6 ovvero un po' più piccolo però questo può cambiare a seconda del risultato che noi vogliamo ottenere possiamo anche modificare la saturazione quindi ad esempio renderlo molto più acceso o meno acceso io consiglio di lasciarlo a 20 a seconda appunto di quello che volete ottenere voi possiamo anche ad esempio modificare lo smoothing factor quindi se ad esempio vado a mettere 3 creerà delle curve molto più smussate possiamo ad esempio anche cambiare lo smoothing iteration e tantissimi altri fattori la cosa stra interessante che lo sviluppatore ci ha concesso anche con questo programma è che possiamo cambiare in tempo reale il colore del background che in questo caso comunque io lascio bianco per il semplice fatto che poi nel momento in cui vado a esportare la mia immagine in png posso poi applicarla ovunque possiamo anche modificare ad esempio lo stroke per stroke si intende la traccia che c'è attorno come potete vedere ovvero la traccia nera che c'è qui attorno possiamo ad esempio metterla interna in questo caso non ci piace quindi possiamo anche lasciarla outside però la cosa figa è che abbiamo anche altri valori ad esempio left size creerà un effetto tridimensionale e possiamo anche modificare l'opacità di questo stroke oppure con questo parametro possiamo decidere di applicare lo stroke anche ad altri colori all'interno della nostra immagine possiamo vedere ad esempio io metto outside metto lo stroke al massimo ecco quale sarà il risultato ovviamente a noi non ci piace quindi mettiamo lo stroke a zero e rimaniamo appunto con il valore iniziale la cosa stra bella di questo programma è che se io adesso vado ad esportare in png otterremo un problema ci sarà il waiter marco vero il logo la cosa stra interessante è che noi possiamo ottenere una licenza come vedete in basso pixelator ci dice che questo software non ha nessuna licenza applicata se ad esempio vado sul loro sito ufficiale possiamo vedere che in questo momento ci sono tre licenze la licenza personale la licenza studio e la licenza company la licenza studio costa 35 dollari quindi 30 euro che ci permette comunque di non avere il waiter mark di poter utilizzare le immagini generate per progetti commerciali la versione company invece può essere utilizzata da 10 a 500 persone mentre la versione quella studio soltanto da 10 persone o meno però la cosa stra interessante è che c'è una versione personal che ci va a levare il waiter mark noi in questo momento non l'abbiamo ancora attivata quindi possiamo andare ad attivarla insieme la cosa molto importante che vi dico è che le immagini utilizzate con la licenza personal non possiamo utilizzarle per progetti commerciali infatti quello che consiglio ad ognuno di voi è di utilizzare questo programma soltanto per progetti gratuiti o progetti per voi e dovete citare che comunque avete realizzato le immagini grazie al tool pixelator io consiglio nel momento in cui uno fa questo di lavoro magari di investire 30 euro in un prodotto del genere perché è veramente molto molto ottimo almeno che comunque non avete un grafico che vi farà gli assets completamente da zero andiamo quindi ad ottenere questa licenza gratuita quindi personal ci basta semplicemente cliccare ci dice tutto quello che noi possiamo e non possiamo fare quindi mi raccomando leggete attentamente ogni cosa perché io ovviamente non sono responsabile in caso di problemi futuri con questo programma quindi otteniamo la nostra licenza e il programma ci dice semplicemente il nostro nome in questo caso Samuele Sciacca è la mia email una volta inserita l'email pixelator ci riporterà a una pagina dove c'è una chiave e in basso una licenza che noi potremo scaricare clicchiamo quel bottone download e poi per applicare la licenza ci basta semplicemente andare su update in altro applica licenza e selezioniamo il file che abbiamo appena scaricato sulla pagina di pixelator una volta inserita la licenza ecco qui che ci dice che la licenza è stata applicata con successo di Samuele Sciacca ed è personale nel momento in cui vado a fare file esporta immagine come possiamo inserire un percorso in questo caso l'ho salvata sul desktop una cosa molto importante che succede è che l'immagine però ha bassa qualità e molto probabilmente questo succede perché noi stiamo usando la licenza personale quindi quello che poi vi consiglio di ognuno di voi è di vedere effettivamente se continuare ad utilizzare questo tool con la versione gratuita oppure investire 30 euro per invece avere un prodotto che comunque ti garantisce una certa qualità non ne sono assolutamente sicuro consiglio comunque in caso di contattare lo sviluppatore ma credo che sia così perché non avrebbe praticamente senso dato che è un tool che è usato molto molto spesso la cosa stra interessante che consiglio come possiamo vedere ad esempio da queste immagini è che ci basta semplicemente ad esempio anche disegnare con paint un semplice personaggio e convertirlo subito utilizzando questo programma quindi secondo me in moltissime situazioni potrebbe veramente esserci tantissimo d'aiuto quindi ragazzi in caso qui sotto c'è l'email dello sviluppatore che credo sia comunque a completa vostra disposizione se volete chiedergli il fatto della qualità ma come si può vedere da queste immagini credo che il problema sia proprio dato dalla licenza è veramente un tool molto interessante che potrebbe esserci davvero molto d'aiuto in tantissime situazioni quindi ragazzi se vi è piaciuto questo video vi invito di lasciare un like e un commento qui sotto su quello che pensate di questo video fatemi sapere cosa ne pensate anche di questa serie se continuarla oppure no il canale sta crescendo ogni giorno di più e vi posso garantire che nelle prossime settimane voglio portare anche dei contenuti diversi con maggiore qualità quindi ragazzi ci vediamo come il giorno con un nuovo video e quindi ci vediamo domani ciao